È di 15 milioni di euro l'investimento sulla rete ferroviaria Lombarda da qui ai prossimi sei anni. Lo hanno annunciato congiuntamente Regione Lombardia, Ferrovie dello Stato e RFI. Il programma prevede interventi di potenziamento infrastrutturale e upgrading tecnologico, la soppressione di 110 passaggi a livello, gli interventi nelle stazioni e la manutenzione delle linee Lombarde. La rete con questi interventi sarà rimessa a nuovo, le assunzioni sono state fatte, i treni li abbiamo ordinati e presto arriveranno. Io credo che quando si saranno realizzati tutti questi punti avremo veramente un trasporto in linea con le migliori regioni europee. Ricordiamoci sempre che questa non è una particolare concessione fatta alla Lombardia in quanto Lombardia, ma è fatta alla Lombardia perché qui sta buona parte di quello che è il trasporto ferroviario di tutta Italia. I numeri di Regione Lombardia sono i numeri del Lazio, del Veneto e del Piemonte messi insieme. Spostiamo tutti i giorni 800.000 persone in termini di pendolari, quindi solo di pendolari parliamo di 800.000 persone, 1.600.000 viaggi tra andata e ritorno. Comprenderete bene quindi perché l'attenzione di RFI che abbiamo richiamato e finalmente ottenuto è dovuta a una regione come la nostra. Per i pendolari e l'utenza della provincia di Cremona questo copioso investimento si tradurrà nel raddoppio della linea Mantova-Cremona-Milano. I lavori si svolgeranno in due tempi. Il primo lotto inizierà nel 2021 e riguarderà il tratto tra Mantova e Piadena con un costo complessivo di 490 milioni di euro. I lavori si protrarranno fino al 2025, quindi toccherà quello tra Piadena e Codogno. L'obiettivo è quello di portare la capacità della linea a 10 treni all'ora rispetto agli attuali 4. Soddisfazione da parte degli amministratori comunali, sebbene il sindaco Galimberti in una nota ha fatto sapere di voler tenere alta l'attenzione finché il cantiere non sarà effettivamente aperto e di voler approfondire il cronoprogramma e i finanziamenti per i lotti successivi, compreso quello da Cremona a Codogno.